Claudia Cautillo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Benvenuta. Grazie, grazie. Insieme con Claudia Cautillo raccontiamo il suo nuovo libro intitolato La fine della famiglia pubblicato dalla casa editrice Le trame di Circe, uno dei primi titoli di questa nuova casa editrice, questo è molto importante ricordarlo. Claudia Cautillo, ricordo leggendo in guardia di copertina, che con Il fuoco nudo pubblicato nel 2016 da Edizioni a Nordeste è stata finalista al premio Calvino e ha vinto la menzione speciale della giuria del premio Augusta. Devo dire che ogni volta che incontro la citazione del premio Calvino mi sembra sempre corretto e bello ricordare l'esperienza di tanti scrittori che sono passati attraverso questo premio e quindi anche lei, Claudia Cautillo, che ricordi ha di questa partecipazione? Belli, belli, molto belli perché ho partecipato anche un po' diciamo per caso perché quando poi si pensa così di partecipare a un premio un po' uno getta la pallina, lancia la roulette e poi non si sa mai come vada e con sorpresa invece poi sono stata chiamata tra i finalisti e ho trovato un ambiente molto bello, divertente, abbiamo anche fatto amicizia, ancora dopo anni ci frequentiamo, ci sentiamo, ci incontriamo al Salone del Libro di Torino. che sarà dal 18 maggio e ritorna e ritorna di nuovo ovviamente a raccontare di tanti incontri che ovviamente noi in parte seguiremo perché sarà impossibile seguire la maggior parte degli incontri. Ricordo anche che Claudia Cautillo, laureata in storie e critica del cinema, sceneggiatrice, copywriter, pubblica su riviste online, cosa vuol dire essere copywriter e scrivere e scrivere romanzi? Allora sono due cose fondamentalmente diverse perché certamente nel romanzo comunque in ciò che si scrive… Innanzitutto ci si può dilungare, mentre il copywriter normalmente è una sintesi. È più conciso, è una sintesi, poi la differenza fondamentale è che uno quando decide di pubblicare un libro sceglie lui, si sente artista, artista come il pittore, il fotografo eccetera, ovvero sia da un'interpretazione sua personale di quello che sente, delle proprie emozioni, di quello che ha da dire. Viceversa il copywriter è un'attività legata a un obiettivo finalizzato, concreto, cioè tu devi fare lo spot di un prodotto, oppure veicolare il concept di un'azienda, rilanciare il brand di un nome eccetera, quindi lì sei vincolato, la tua creatività è al servizio di un cliente diciamo sostanzialmente e invece nei romanzi come questo che ho scritto sono svincolata da qualunque obiettivo e non ho pensato neanche di riferirmi a un lettore ideale, ma semplicemente ho voluto narrare un mondo attraverso una specie di autobiografia immaginaria, fettizia di un personaggio femminile inventato che è una donna contemporaneità, è una donna di oggi che affronta un po' quello che secondo me è uno dei temi fondanti della contemporaneità, cioè l'identità, chi siamo, lei al di là delle maschere sociali come anche i primi ruoli che si devono interpretare in famiglia, che un po' ci costringe a delle maschere, a un ruolo specifico di figlia o di moglie o di madre eccetera e alla ricerca al di là di questi ruoli in quel nucleo fondante della società che è la famiglia, cerca se stessa, cerca cioè la propria identità profonda che va al di là di queste identificazioni che delle volte possono essere anche un po' coercitivi. E cercare la propria identità a volte la si cerca nella propria famiglia o forse è proprio lì dove non si deve ricercare per poi ricercarla altrove ed essere nella famiglia veramente se stessi, ma qui entriamo già proprio nell'humus di questa storia, nello sguardo dei nostri protagonisti. Rimaniamo per qualche istante, Claudia Cautillo, sull'immagine di Copertina, lei ce la vuole raccontare con parole sue? Questa immagine di Copertina sì, è evocativa diciamo anche di orizzonti che aspettano al di là della finestra, cioè al di là dell'uscio di casa, perché il libro poi non vuole essere diciamo una narrazione autoreferenziale, onanistica o dolorosa. è anche tutto questo, ma è anche un'apertura verso la speranza, verso il domani, perché il titolo potrebbe forse sembrare un po' definitivo alla fine della famiglia, ma in realtà è anche l'analisi critica di un periodo storico, quello che stiamo vivendo, in cui vengono rimessi in discussioni alcuni valori che fino ad oggi sono stati quelli su cui ci si basava per dare un senso alla realtà e che, visto che i tempi cambiano e stiamo in una società complessa, in via di perenne trasformazione, richiedono altri traguardi e altri obiettivi, devono essere rivisti, per cui in realtà il libro parla anche di tutto questo, ma con una prospettiva fiduciosa comunque verso il domani. e la finestra aperta con questo sole che storge, diciamo, dà un po' l'incipit, dà un po' l'idea anche di tutto quello che c'è. E allora, visto che ha pronunciato la parola incipit, nell'incipit vogliamo rimanere e ascoltare come comincia questo romanzo, la fine della famiglia. Allora, ce l'ho qui davanti a me, glielo leggo, il sangue mi ossessiona da sempre, niente amo e temo quanto il sangue, mi disgusta e mi attrae, è bello, è nobile e fa paura, è cieco eppure ha mille occhi, se ne sta rintanato nei recessi delle vene, al buio e al riparo da tutto agisce instancabilmente. È un fluido, però è un tessuto. Ma che significa questo? Come fosse una stoffa. Immagino gli spigoli duri di un telo di cotone che sbattono correndo dentro alle pareti delle vene e le feriscono. Se ci penso, provo una sensazione opprimente di fastidio fisico e claustrofobia e allora è meglio non pensarci. Far finta che sia solo quel bel colore rosa che qualche volta illumina le guance. Tutto qui, un simbolo, un'idea, non un'intelligenza nascosta che mi fa rendere conto che io non so niente, che non so proprio niente. Perché il cervello se ne sta fermo al suo posto, è detta legge, ma il sangue va per conto proprio, gira senza fermarsi e non lo sta a sentire. Corre verso un suo fine risoluto e ostinato. Sa quello che deve fare e lo fa. Questa energia in movimento di cui nessuna parte dell'organismo può vivere senza. Persino i capelli e le unghie, le sole parti di noi, che crescono senza tuttavia essere vive. I testi di anatomia lo descrivono come un liquido vivente, variabile dal rubino al violaceo, al porporo, al ciliegia, più o meno intenso, ma comunque denso e opaco. Eppure, fuori da noi di un rosso brillante e lucido, tanto che nei vecchi film, per simularlo, dovevano usare la vernice. Un colore che è impossibile non notare. Il primo dello spettro solare e il primo a essere riconosciuto dai bambini. L'unico a cui tutti i popoli della terra hanno dato un nome. Quel rosso che i latini chiamavano Ruber. Il colore per antonomasia. Il colore dei colori. L'improvviso elemento disturbante che quando esce dal corpo spezza la consuetudine delle cose. Perché quello che è interno non deve diventare esterno. Ciò che è segreto non deve essere manifesto. Siamo fatti di carne e la vita della carne è nel sangue. Questa cosa misteriosa, vischiosa, repulsiva e ipnotica che non deve mai essere vista. E io mi soffermo su questa sottolineatura tra le varie fatte su questo libro. Ciò che è segreto non deve essere manifesto. Qui si parla di sangue che quando scorre nelle vene è una cosa, quando lo vediamo è un'altra. Un conto è il segreto e un altro conto è la rivelazione. Questo romanzo attraversa anche il segreto e la rivelazione. Perché senza svelare ovviamente come va la storia. Qui c'è un padre che sta per morire. Sì, sì, sì. E il sangue è un elemento importante. Il sangue è vita, il sangue nello stesso tempo è anche morte. E abbiamo subito questa necessità di capire il segreto della malattia. Perché questa è una malattia molto invalidante, una malattia che segna un destino. E quindi la rivelazione di quanto potrà vivere un uomo, in questo caso il padre. Sì, sì, sì. Ma infatti si apre con un dolore che è, diciamo, anche la molla che fa scattare tutta una serie di riflessioni intime della protagonista. Perché, appunto, dicevo prima, questa è un po' un'autobiografia, ma può essere anche letta con un libro di memoria, un memoir. Una saga familiare, perché ci sono moltissimi personaggi. Diciamo, addirittura circa, un poco meno che 70, tra personaggi principali e minori. E all'inizio si vede la famiglia riunita al capezzale del padre, che purtroppo, insomma, sta morendo. E quindi si aprono poi discussioni su dove farlo morire, se in casa, all'ospedale, eccetera. Quindi è un inizio un po' doloroso, ma è soltanto, diciamo, dai là a una serie di considerazioni che poi spaziano. Perché la protagonista ripercorre anche la sua infanzia, ripercorre il suo ruolo in questa famiglia, anche di fronte a un momento significativo, come quello di un passaggio, il passaggio dalla morte alla vita, da una famiglia come era stata vissuta fino a quel momento, alla famiglia che verrà dopo questo evento luttuoso. Perché cambieranno molti scenari, molte cose. E il sangue è anche un po' il simbolo dei legami familiari. Infatti, quando parliamo di famiglia, parliamo sempre di legami di sangue. È il simbolo però anche di questa intelligenza nascosta, dell'anima che c'è all'interno delle persone e che spesso non va a coincidere con i ruoli poi stabiliti all'interno di una gerarchia, delle volte anche coercitiva, come spesso si può svolgere all'interno dei nuclei familiari, con i dissapori, gli screzi, le incomprensioni, le ambiguità, il non detto. Quindi è un elemento questo del sangue che torna anche perché la protagonista è una donna forte, tanto che si interroga su se stessa e vuole uscire dagli schemi che le sono stati il suo malgrado imposti, anche con un certo tipo di educazione, eccetera. Ma allo stesso tempo è fragile, ha le sue fragilità, tra le quali una certa repulsione, un certo atteggiamento di disgusto, di debolezza nei confronti del sangue o come vedremo più in là, per esempio soffre di amaxofobia che è un disturbo molto comune. Relativo alla guida, la amaxofobia sarebbe questa sindrome particolare che è debilitante per chi vuole guidare, nel senso che non ce la fa e qui è anche una cosa molto particolare che scopriamo in questo romanzo. Però Claudia Cautillo, lei ha detto due volte una parola e io sono rimasto colpito, ha detto due volte la parola autobiografia. Ora, senza entrare nel terreno della domanda quanto c'è di lei in questo romanzo, domanda che è sempre forse un po' inutile fare, però il valore autobiografico ha una sua importanza, no? Perché ci si mette sempre in discussione con la propria vita di fronte alla pagina bianca scrivendo di altri e quindi questo esercizio autobiografico che per certi aspetti, secondo Duccio Demetrio che sull'autobiografia ha scritto parecchio e noi l'abbiamo anche raccontata questa cosa, l'autobiografia per lei diventa quasi una forma di terapia della conoscenza del proprio vissuto? Sì, 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 ma certamente perché in effetti poi uno scrittore, un pittore, ma chiunque voglia esprimere un mondo attraverso la creazione artistica, necessariamente qualcosa di suo lo mette ma in modo traslato. Questo romanzo, definiamolo romanzo perché è narrativa e non saggistica, però effettivamente non appartiene a una forma definita. Ecco, dicevo prima anche memoir, autobiografia certamente perché ci sono dei tratti che sono anche presi da un vissuto personale o da quello che si è sentito delle vite di altri che ho conosciuto insomma e che ho innestato in questo personaggio femminile che è composto da tanti altri personaggi, diciamo è come fosse la sintesi di varie donne e personaggi reali insomma che ho incontrato lungo il corso della mia vita e che ho voluto rimanipolare come anche tutti gli altri personaggi del libro sono certamente presi da quello che ho visto nella mia vita ma diventano come anche dei simboli o piuttosto delle metafore di concetti diciamo che attraverso di loro io ho voluto manifestare. Ecco, forse quello dell'innesto può essere un paragone utile per spiegare, come con gli alberi, l'albero di ciliegia che viene innestato, che so, quello del mandorlo. Sono compositi, sono compositi e tra l'altro ecco una cosa che mi viene a dire a proposito della struttura appunto così particolare di questo testo che potremmo definire romanzo anche se poi esce fuori perché un po' potrebbe essere appunto la sagra familiare, un po' l'autobiografia ai tratti del memoir, del romanzo psicologico, di quello di formazione eccetera. In ogni caso romanzo. È romanzo diciamo sì, anche perché per comodità è giusto ingabbiare diciamo così in un concetto definito perché per stessa comodità i librai devono sapere, no? Poi in libreria su quale scaffare anche mettere il libro che gli arriva, quindi narrativa o saggistica. Ma lei, a proposito di libreria, mi scusi se interrompo, ma lei ha mai spostato un libro in libreria pensando che quel libro fosse messo nella posizione sbagliata? Eh, ma infatti... Ha mai fatto quel gioco magari un po' banale, un po' stupido? Sì, 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 no, capita, capita anche che io magari vada in libreria per comprare un libro e che lo stesso libraio non ricordi o l'abbia messo in un ceso scappale mentre il collega l'ha archivato in un altro modo, perché è difficile, sono sempre definizioni utili, necessarie, di comodo, però per forza di cose parziali, no? Perché nel momento stesso in cui definisci qualche cosa e quella cosa poi ti sfugge di mano, no? Perché non sempre il cassetto è quello adatto, come anche in questo caso, come lei ci ha ben spiegato, Claudia Cautillo, ma noi abbiamo cominciato la conversazione parlando di sangue. Sì. Ora, abbiamo parlato di sangue e abbiamo ricordato la figura del padre, ma qui la figura della madre bisogna ricordare, perché è anche un altro elemento che è rappresentativo di questa storia. Sì, è vero, è un elemento forte all'interno della famiglia, diciamo che costituisce anche un po' l'attrito, perché poi ci sono all'interno dinamiche anche piuttosto complesse, che vedono in campo i vari ruoli genitoriali, ma di figlia, di sorelle, tra cognati, insomma, ci sono i rispetti, i ruoli che ciascuno poi interpreta all'interno della famiglia e la madre è una figura importante, molto amata dalla protagonista, ma nello stesso tempo con la quale ha un difficile rapporto, una relazione tortuosa, fatta di amore senz'altro, ma anche di tante incomprensioni, come poi purtroppo spesso sento, ho sentito accadere. E in tutto questo anche nelle sorti che poi la famiglia avrà, perché in qualche modo entra in crisi, fino a dissolversi nel tempo, e la madre ha un ruolo che sarebbe potuto essere diverso. C'è anche una critica da parte di questo personaggio femminile, al quale peraltro io non ho voluto dare un nome, nel senso che all'interno del romanzo ci sono certamente ambientazioni, perché ci sono ambientazioni storiche, anche di una città precisa, quale quella di Roma e dove si svolgono gli eventi, eccetera, ma nello stesso tempo mi sono voluta mantenere un po' anche sull'astratto per cercare di essere dettagliata, non dal punto di vista di date, situazioni, nomi, quindi ruoli, ma il dettaglio va più nell'analisi psicologica, nel vissuto, nell'emotività, nelle emozioni. Che tutto questo porta a una rinascita, se ho ben compreso questa storia, pagina dopo pagina, perché il motivo fondante della narrazione di Claudia Cautillo in questo romanzo, La fine della famiglia, è proprio questo, cercare attraverso i numerosi, sono proprio tanti i personaggi più o meno importanti, non importa, di questa storia per ridare, per ridare, diciamocelo pure, un senso alla vita, e per trovare forse quella parola necessaria, utile, indispensabile, anche se effimera, che è felicità. Lei scomoda persino Proust per parlare di felicità. Sì, esatto, esatto, sì, perché certamente abbiamo presente quel capolavoro della letteratura di tutti i tempi, che è la ricerca del tempo perduto di Proust, nel quale il protagonista, che si chiama Marcel, come Marcel Proust, ma come specifica lo stesso autore è un riferimento fittizio e viene nominato, mi sembra, in tutte le tremila e passa pagina della ricerca solo uno o due volte. Ecco, c'è naturalmente la ricerca da parte appunto del narratore della ricerca della felicità, in un certo modo naturalmente senza nessun paragone con quel genio che è Proust, però in un altro modo sì, l'identità della protagonista ha come domanda fondante alla base di tutto il suo vivere e la ricerca di chi è, dell'identità quindi della felicità che è possibile, scopre via via tra le pagine questo personaggio femminile e scopre essere sempre qualcosa al di là dei ruoli, delle maschere, dell'identificazione appunto in quella funzione che la società ci attribuisce. È sempre la ricerca di qualcosa di più profondo che, ricollegandoci al discorso di prima sul sangue, appunto è nascosto nella nostra interiorità, simboleggiato dal sangue che, a differenza del cervello che è logico, che è raziocinante, il sangue sono le emozioni, sono quella parte anche oscura di noi che non conosciamo, nella quale risiedono i motivi, le motivazioni profonde della nostra possibile felicità e quindi appunto è un romanzo che poi si apre a tutto questo, a una prospettiva di ricerca continua e in un qualche modo anche se la felicità sembra sempre porsi un po' in là, sembrano sempre momenti fugaci che poi passano, si rinnova perché perenne è la capacità di scendere dentro noi stessi, di prestare orecchio ai suoi messaggi, al suo richiamo, di collegarci a quanto di più profondo giace in noi e che tante volte per i motivi più vari dimentichiamo, distratti dalle regole del quotidiano, distratti dall'immagine spessa anche finta che abbiamo di noi stessi, quindi in un certo senso si abbia una prospettiva anche cubista della vita che vuole essere vista da tanti punti, non solo quello preordinato che ci può servire per carità nel nostro ruolo che ne so, nella professione, in alcuni modi noi siamo anche costretti ed è pure un bene a identificarci in una funzione o in un ruolo specifici, ma non dobbiamo pensare che noi siamo solo quello perché c'è anche molto altro che ha tutto il diritto di esistere alla pari della funzione sociale, anzi quanto è più di nascosto? Forse è ciò che è più prezioso come il sangue che gira e non sta a sentire niente e che ti fa impallidire o ti fa arrostire come al grado e che ti batte il cuore in tutte le circostanze in cui tu sei veramente te stesso, no? Questa emozione che tante volte la vita contemporanea ci toglie un po', no? Perché siamo più spinti a razionalizzare e tra l'altro, ecco, questo sempre mi ricorda un po' il discorso sulla maxofobia, ovvero sia come abbiamo detto, la paura che è una fobia del quotidiano, della contemporaneità abbastanza comune, che è la paura di guidare la macchina, soprattutto in contesti dove non ci sentiamo al nostro agio sicuri ed è un disagio, ho scoperto anche tipicamente femminile, anche gli uomini ne soffrono, ma di più le donne, per esempio guidare in autostrada quando dobbiamo correre a una certa velocità e abbiamo paura del confronto con gli altri che corrono più velocemente di noi, non so, i viadotti, le gallerie, tutti i posti nei quali ci sembra più difficile poterci fermare un attimo, poter prendere il nostro ritmo invece che quello imposto dalla competizione con gli altri ed è lì che il sangue si prende la sua rivincita attraverso gli attacchi di panico che possono capitare, ci avverte, non per punirci, ci avverte però che forse noi ci stiamo forzando a un ritmo che non è quello nostro naturale e sono campanelli d'allarme che vanno presi non in maniera, oddio, angosciata, ma proprio come messaggi dal profondo che se ci sono hanno una loro utilità e sta a noi come appunto la protagonista di questo romanzo, saper interpretare bene, saperne fare buon uso e interpretarli per uscire fuori anche appunto da un'immagine magari di sé, di noi, troppo cristallizzata e che quindi non corrispondendoci rischia di soffocarci. E' davvero strano che proprio quello di me che vale di più, che anche la sola cosa che mi fa felice, quello che non cambierei per niente al mondo, non so neanche cos'è e non lo saprei mai. Queste sono parole fondanti che ho letto a chiusura di questa conversazione senza svelare più di tanto dove troviamo queste parole, ma ci riportano al discorso sulla felicità e non solo, è al senso della famiglia, al senso dell'esistere e dell'identità. La fine della famiglia di Claudia Cautillo, pubblicato dalla casa editrice Le trame di Circe. Lei, Claudia Cautillo, ha studiato storie e critica del cinema. Ma hai pensato che questa potrebbe essere una storia adatta per un film? Magari, sì, diciamo allora in un certo senso potrebbe esserlo, perché appunto come dicevamo prima poi è piena di personaggi, sembra che sia una narrativa. La storia adatta potrebbe essere, visto che lei è critica del cinema, conosce la storia del cinema, adesso le devo far svelare questa. Sì, sì, magari, ma uno dei miei registi preferiti è l'americano Malick, quello della sottile linea rossa oppure dell'albero della vita, The Tree of Life, ma vabbè, sì, sarebbe una cosa talmente meravigliosa. No, ma lo dico nel senso che è un libro in cui accadono tante cose, però c'è questo flusso continuo della narrazione, tra l'altro non è spezzato in capitoli proprio perché è come un lungo discorso ininterrotto, anche se è pieno di dialoghi all'interno, però comunque c'è sempre questa voce narrante della protagonista e lo stile potrebbe essere quello appunto un po' sognante di Malick che è molto volto all'interiorità, diciamo a come il protagonista vede il mondo e lo racconta attraverso il filtro della propria vita personale, intima. Prima di salutarci invece, qual è il libro che ne fa compagnia in questi giorni? Allora, in questi giorni, ma io ne leggo tante volte anche più di uno contemporaneamente, in realtà io sto leggendo una biografia di Elvis Prepli in questo momento, che si chiama Io Elvis di Paolo Borgognone della catedrice di Arcos, perché a me piacciono, vede molto le biografie e le autobiografie non a caso, cioè mi piace proprio la vita personale, intima, dietro le quinte spesso delle persone, dei personaggi che amo, ti comiamo molto anche la musica, ecco, infatti la musica qui è presente nel romanzo, ricordo per esempio Heroine di Lou Reed, se ricordo bene, e quale canzone di Elvis Presley le viene più in mente? Dunque, come si chiama? I can't help falling in love with you, non posso fare a meno di essere innamorato di che è particolarmente struggente e riprende quella canzone francese, antica, famosissima, che viene poi rielaborata in modo moderno, attualizzandola, insomma, Elvis Presley in una maniera, perché spesso i rifascimenti di quello che già conosciamo in forma classica non riescono bene, ma nel caso di The King è un caso sicuramente a parte, ogni cosa era sicuramente lavorata e rielaborata, interpretata in una maniera straordinaria, grazie davvero Claudia Cautillo per il tempo che ci ha dedicato, grazie per questa bella chiacchiera, buona giornata Grazie a voi, arrivederci, prego.